Ultime notizie dal Tg.com. Molti disagi per il grande esodo estivo, tantissimi i cantieri sulle autostrade, mentre la maggior parte dei benzinai non accetterà quasi tutte le carte di credito e il bancomat. Problemi anche per chi si sposta in treno, previsti scioperi dalle 9 alle 17. Da qualche mese la sua pelle non tollera più il contatto con nulla, neanche con i vestiti ed è costretta a vivere seminuda. Giovanna Anastasi soffre di un'allergia gravissima e cerca disperatamente un allergologo che l'aiuti. La ex velina Elisabetta Canalis ha un nuovo amore. È stata fotografata a Rimini con Massimo Pierotti, imprenditore della Riviera Romagnola e proprietario di uno degli stabilimenti balneari più famosi della zona. Se vuoi diventare un esperto di management di attività multimediali, puoi seguire un corso completamente gratuito al Campus Multimedia promosso da Mediaset. Potrai trovare tutte le informazioni sul TG.com oppure alla pagina 399 di Media Video. Per tutte le altre notizie venite a trovarci su www.tgcom.it. Ora vi lasciamo alla seconda parte del film. E state con Miglior Gatto Cibo Amico di Ogni Giorno Vi offre questo programma Giornata soleggiata su quasi tutta l'Italia. Nuvole sparse concentrate su Est Alpi, Liguria e Centro Nord Appennino, dove comunque il cielo si manterrà poco nuvoloso. In serata qualche nuvola in più su Val d'Aosta e Osso. La temperatura è rialzo al nord e il caldo, seppur attenuato, insisterà al sud con bansime fino a 35-36 gradi. I venti saranno deboli. Dati, servizio meteo, aeronautiche, elaborazioni e grafica. Epson Anche i capelli hanno sete. Dissetali con garnier ultradolci e al latte vegetale idratante. Matrimonio a picco? Voglio andarmene. Salute K.O. Gio. Parti e te ne vai così senza... Mollare tutto e via. Via dai guai. Oh, salve! E conoscere lei. Sei brava a fare amici zio. Ascia. Sono brava in tante altre cose. Un vero talento. Il mio problema, sai qual è? Per cacciarsi nei guai. E che sono attratta da... dagli schizzati. Altri guai. Sai qual è il tuo guaio? Fortuna che c'è Joe. Che non hai fiducia nel prossimo. Sharon Stone. Tanto ti stai... innamorando di me. Tu puoi farci niente. Beautiful Joe. In Prima TV, canale 5, lunedì alle 21. Ci facciamo un giro. Perché no? Pellicola Coda Cultra. Per tutte le condizioni di ripresa, anche in movimento. Con Coda Cultra avrai il 25% in più di foto bellissime. Kodak. Incontrarsi in un'immagine. Bailando, bailando, è stata l'antella. Bailando, bailando, busco l'alma mia e mela. Bailando, bailando. Compra due tubi di Pringles e il CD bailando è subito tuo. Distorsioni, stiramenti, celazione di Fastum Gel. Fastum Gel allevia il dolore. Fastum Gel risponde colpo su colpo. Anche in compresse. Sono medicinali, hanno effetti collaterali, hanno contraindicazioni. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare le compresse al di sotto dei 15 anni. Ma quella lì non stava con... Ma no, adesso ha un altro. E che bella canotta. L'avrà presa con Novella 2000. Questa settimana c'è la canotta in due colori moda. Bella l'estate di Novella. Tra i oggetti volanti ha fissato il mio pericolo. Come vedete dalle immagini alle mie spalle di un trafico. Il prima che regna in queste ore. Tutti si domandano chi sono, da dove vengono e soprattutto che cosa cercano. New Tecna Generation. Intelligenza superiore. Rex. Fatti per essere il numero uno. Per prevenire la formazione della placca dovresti lavarti i denti ad ogni occasione. Quando non puoi lavarti i denti c'è Dagan Microtech con microparticelle pulenti ad azione prolungata e costante che riduce oltre il 90% di placca in più rispetto ad un chumiga normale per una sensazione di pulizia profonda e la sicurezza di un alito sempre fresco. Dagan Microtech. Denti più puliti controllo alito fresco. Ora dopo ora. Voglio un colore intenso e brillante che anche al sole d'estate non sbiadisca. Rivoluzionario. Solo Testa Nera Brilliance affissa i pigmenti di colore in profondità nei tuoi capelli. Per colori brillanti e durevoli come diamanti. Mai avuti prima. Brilliance. Da Testa Nera. Prova l'arancia di Elisir con fiori d'arancio e biancospino. Elisir di Rocchetta. La natura che disseta. Nelle antiche saponerie ho scelto per te il mio miglior Marsiglia. Efficace e naturale. La stessa forza e naturalità che trovi in Omino Bianco Detersivo Marsiglia. E da oggi nel nuovo Marsiglia Polvere. Grazie Omino Bianco. Omino Bianco Marsiglia. Liquido e da oggi anche in polvere. Immagina di vivere in un mondo Carlsberg. Vieni anche tu alla grande festa Vodafone. Fino al 12 agosto la carta è ricaricabile, costa la metà. E in più puoi mantenere gratis il tuo numero di cellulare. Da Vodafone. Vuoi una vita più semplice? Oggi puoi. La nuova lavatrice Uber Vision ha un display che dialoga con te. E il cesto più alto e inclinato per non farti piegare più. Uber Vision è il futuro che immaginiamo. Perché aspettare? Uber Generation Future. Avanti è aperto. Buongiorno signora. Ciao Luca. C'è Chiara? Arrivo. Luca lo vuoi un caffè? No grazie. Ho le gengive in fiamme. E spegnile. Tanto un verde per le gengive. Tanto un verde colluttorio. Puro per le infiammazioni di gola, bocche e gengive. Diluito con acqua per l'igiene orale. C'è ancora quel caffè? Cosa faresti senza di me? Tanto un verde colluttorio. È un medicinale a base di benzidamina. A leggere attentamente le avvertenze e il foglio illustrativo. Il caffè Luca. Il pane non bastava mai. E il panettiere faceva orari impossibili. Sua moglie. Tutta colpa della sua bruschetteria. Non me lo perdonò. La invitai ad assaggiare le mie ragioni. Cuori di carciofo, peperoni e fantasia di pomodorini. Si incantò ad assaporare la bruschetteria. Fino a un orario impossibile. Il marito non me lo perdonò. Bruschetteria Bertolli. Non si vive di solo pane.